Occhio Altaormina, Campanella nell'ultima sgambatura al Comunale non ha mancato di tenere in allerte i suoi ma soprattutto un ambiente che dopo una buona partenza in quel di Rosolini pensa già di avere in tasca anche i tre punti contro la squadra di Decento. Serve invece la massima concentrazione perché l'avversario nonostante la falsa partenza si fa rispettare. Sul momento invece della squadra il tecnico è abbastanza sereno e consapevole che non può che migliorare col passare del tempo. Mister, perché non ha visto la partita del vittorio a Rosolini, la stampa può pensare che c'è forse la difesa da registrare. Cos'è? No, io parto sempre da un presupposto. Quando si prendono il gol la colpa non è solo della difesa, la colpa è di tutti. Noi è vero, abbiamo preso due gol, soprattutto il pareggio sull'1-1 che non mi è piaciuto perché sono stati due ragazzi che hanno combinato una colza papara. Però devo dire che la squadra ha saputo reagire e siamo ritornati in vantaggio. Non accetto il secondo gol come l'abbiamo preso, soprattutto dal collaboratore dell'arbitro che diceva, addirittura mi ha detto si rivede il regolamento. Io gli ho detto guarda io a 45 anni che faccio il mestiere è meglio che il regolamento te lo vedi tu perché su respinto del palo il giocatore che è a mezzo metro prende la palla e fa gol. Guarda che è fuori gioco. Comunque ci può anche stare questo perché poi la girano sempre nel modo che hanno ragione loro. Abbiamo avuto la fortuna di riprendere la partita, abbiamo fatto il terzo gol con Fabio D'Agosta che fino adesso... È una sorpresa lieta, no? È una lieta sorpresa per chi non lo conosce, è una bella sorpresa per me perché non avevo dubbi su questo ragazzo, tenendo presente che questo fa enormi sacrifici perché io l'aspetto ogni sera alle 7.30, 8 meno un quarto quando finisce da lavorare. Lo alleno al buio e alla fine devo dire che i sacrifici stanno ripagando.